Ed eccoci qua, eccoci qua. 21 giugno, primo giorno d'estate. Ho aperto il microfono per augurarvi una bellissima estate, chiaramente, a tutti e a tutte. Anzi, a chi se lo merita, mettiamola così. Ma soprattutto volevo augurare un buon primo giorno di rinascita a tutte le persone che ne hanno bisogno. So che siamo in tanti. È stato un anno tremendo, anzi più di un anno, dove è cambiato tutto. Ma ormai questo lo sappiamo, cioè c'è poco da dire. È un anno che ci ha piegato, in certi casi, e in altri ci ha proprio spezzato. Auro a chi ne ha bisogno di ratrizzarsi, di tornare dritti. Anche se, a dirla tutta, per chi è come me che è nato un po' storto, tornare dritta è perciò che è impossibile. Ma ormai questo l'ho messo in preventivo. Però ho bisogno comunque di nuovi obiettivi, di nuove strade, di nuovi sogni, di nuove possibilità. Anche se comunque ammetto che sono spezzato. Questa è la verità. Sono spezzato perché quest'anno è stato devastante per molti punti di vista. È stato un anno che comunque lascerà dei segni, delle cicatrici. E lo so che fa figo dire, l'ho detto anch'io in molti monologhi, che le cicatrici comunque sono dei tatuaggi che vuol dire che hai vissuto, eccetera, eccetera. Però ce ne sono certe che veramente sono talmente visibili e talmente dolorose che comunque fai una fatica bestia a a passarci sopra, a coprirle se uno vuole coprirle. Però a volte penso anche che continuare un viaggio, riniziare un viaggio con dei pesi che ti porti dentro, con delle ferite ancora a parte, penso sia una cosa veramente, veramente difficile. Ognuno di noi ha la forza per farlo. in teoria sì, però dopo in pratica quando ti svegli e hai dentro un peso che ti ancora a terra è difficile, è veramente molto difficile, questa è la verità. È per questo che auguro a tutti noi un giorno di rinascita, è anche un po', lasciatemelo dire, di culo, perché sono anche convinto che comunque serva anche questo, sono anche convinto che il culo, la fortuna, aiuta gli audaci da sempre serve un mix di tutto per ripartire un mix di tutto per per rinascere un mix di tutto per riuscire a tornare in quella strada che ogni giorno ci costruiamo passo dopo passo e che purtroppo almeno nel mio caso il cartello lavoro in corso è è stato sostituito da chiuso a tempo indeterminato per questo che mi auguro di di avere d'ora in poi un primo giorno di rinascita ogni giorno e so benissimo che non sarà una cosa veloce e so benissimo che a volte ci saranno un bel po' di rotonde che mi faranno tornare indietro a volte a volte semplicemente non mi non vorrò andare avanti questa è la realtà non vorrò andare avanti perché non siamo perfetti non siamo macchine non siamo delle macchine qui basta mettere un po' di benzina e vai avanti la nostra benzina non la compri la nostra benzina per fare andare il nostro cuore la nostra testa è un fuoco che comunque c'è da qualche parte però per molti versi è spento e sappiamo bene che tornerà ad ardere tornerà a tornare a quel fuoco bello di un farò di inizio estate anzi di inizio festa un farò di inizio festa quello che ti scalda però bisogna avere non tanto pazienza proprio voglia di di ricominciare e ripeto auguro che ogni giorno a quelli come me che comunque quest'anno l'hanno patito in maniera particolare auguro un nuovo giorno che ogni giorno sia un primo giorno di qualcosa di speciale nella nostra vita e me lo auguro veramente di cuore perché sono anche convinto che che ce lo meritiamo è un luogo